Il Pounder Institute è un network internazionale di startup e di mentor che aiuta aspiranti imprenditori a lanciare la propria startup tecnologica. Oggi è una rete di 700 mentor che opera in 26 città in tutti e 5 i continenti. In Europa è presente a Bruxelles, a Parigi, a Berlino, ad Amsterdam e sarà presente ovviamente anche a Roma a partire da ottobre. Questi 700 mentor hanno aiutato oltre 500 aspiranti imprenditori a costruire la propria startup anche con il supporto di 75 partner, quindi aziende che offrono servizi a un prezzo particolare o addirittura gratuitamente a chi sta avviando la propria impresa. La filosofia del Pounder Institute è molto semplice. Per fare una startup di successo, per avviare un'impresa di successo ci vuole persone in gamba, ci vuole del training da parte di persone esperte e ci vogliono alcuni incentivi, quindi soprattutto persone in gamba, le idee sono irrilevanti, le idee sono gratis, l'importante è chi poi realizza queste idee. Ci vuole una rete di persone che ha già fatto questo mestiere, che è in grado di aiutare chi si sta avviando a costruire il proprio percorso imprenditoriale e ovviamente ci vogliono una serie di incentivi che tengono insieme il successo. Se io metto insieme questi tre elementi, le chance di fare una startup che duri nel tempo e che cresca sono maggiori. Cominciamo dal primo elemento, che cosa significa great people, persone interessanti. Il Pounder Institute pone una grande enfasi su questo aspetto. Nella fase iniziale di screening dei progetti che entreranno, che potranno partecipare al Pounder Institute, il ruolo delle idee è zero. Quello che in realtà interessa capire è quali sono le caratteristiche delle persone e la valutazione viene fatta con due strumenti. C'è una forma di ammissione che i candidati devono riempire dove si spiegano perché si vuole fare l'imprenditore, quali sono le cose di cui si è appassionati e poi ovviamente si forniscono tutti quanti i riferimenti alle proprie presenze online, i profili su LinkedIn, su Facebook, eccetera. Quindi c'è una valutazione su questi aspetti e la cosa più importante è che c'è un test predittivo, un test analogo a quello che si fa per entrare nelle università americane. Questo test misura essenzialmente due cose, è un test di intelligenza da un lato ed è un test che cerca di capire quali sono una serie di caratteristiche importanti che un imprenditore dovrebbe avere. Quindi in che misura l'aspirante, il candidato al Pounder Institute possiede delle caratteristiche che sono importanti per essere imprenditori e che caratterizzano un imprenditore di successo. Quindi primo aspetto, non tutti possono partecipare al Pounder Institute, solamente chi supera i test di ingresso. Il secondo aspetto è il training, quindi è un percorso che dura 15 settimane, ci sono 15 incontri dove si trattano gli aspetti fondamentali di realizzare una start-up. Generalmente, anzi spessissimo, chi si avvia nel posto di una start-up è molto innamorato del prodotto, di quello che sta facendo e tende a sottovalutare quanto sia importante occuparsi di altri aspetti che sono meno interessanti, meno divertenti, ma che comunque vanno presi in considerazione nel momento in cui il mio obiettivo non è tanto quello di fare un prodotto, ma è di realizzare un'impresa. E quindi in queste 15 settimane sono grossomodo 4 mesi, cominceranno a ottobre e termineranno a febbraio, ci saranno delle sessioni, in ogni sessione ci saranno 3 mentor che sono imprenditori nel settore del digitale che affronteranno gli argomenti dell'incontro, quindi si parte da start-up basics, le visioni, i valori, il naming, il branding, quali sono gli aspetti legali, come si trovano dei co-founder, piuttosto che come si assumono, si licenzionano le persone, gli aspetti economici, quindi i guadagni, i indicati, i costi e i profitti, come si sviluppa il prodotto e via di seguito. La cosa più importante è che tra un incontro e l'altro bisogna fare delle attività, cioè vengono assegnate delle liste di cose da fare, per cui l'attività del Founder Institute, chi partecipa al Founder Institute non partecipa solo a delle lezioni frontali, anzi gli incontri poi per lo più sono dei laboratori, quindi ci sono le 3 testimonianze, dei 3 mentor e poi c'è molto lavoro di gruppo, ma tra un incontro e l'altro bisogna fare delle attività, c'è una lista di cose che vengono assegnate. La caratteristica fondamentale del Founder Institute nel suo svolgimento è che non tutti arrivano alla fine del percorso, è un percorso estremamente meritocratico, se non sei in grado di eseguire correttamente i task, se salti una lezione, se i tuoi risultati non sono sufficienti e vengono valutati essenzialmente dai mentors, vieni escluso dal percorso, quindi è difficile entrare, perché c'è un filtro all'ingresso e vengono presi solamente persone che hanno determinate caratteristiche e nel corso dei 4 mesi in cui si svolge il Founder Institute qualcuno rimarrà per strada, perché si rimane per strada? essenzialmente perché il lavoro non è sufficiente, non è di buona qualità, perché le persone cambiano idea e quindi capiscono che erano innamorati dell'idea di fare start-up, ma poi quando si scontrano con la realtà dei fatti, il fare start-up, il fare imprese e diventare imprenditori diventa un po' meno sexy come attività rispetto a quella che si erano immaginate, oppure perché può capitare un inconveniente e quindi in quel caso ci sono cause di forza maggiore, quindi è vero che si può non arrivare al termine del percorso del Founder Institute, ma altrettanto è vero che tutti hanno una seconda chance di partecipare, quindi chi è stato escluso perché le performance non sono sufficienti, perché ha avuto dei problemi nel corso del percorso o perché ha cambiato idea, può alla sessione successiva, al semestre successiva, riarruolarsi, ricandidarsi e ricominciare il percorso. A volte capitano gli inconvenienti che sono al di là della nostra volontà. Chi è che insegna al Founder Institute? Sono una rete di imprenditori di successo. A livello internazionale ci sono nomi come Mark Pincus di Zinga, Jason Calaganis di Mahalo, Aaron Patzer di Mint, Michael Harrington di TechCrunch e compagnia Bella. Alcuni di loro verranno anche a Roma. È previsto un tour di imprenditori americani per i chapter europei. Io sono stato alcuni mesi fa a visitare il chapter di Amsterdam, in quell'occasione c'era Aaron Patzer, che era il fondatore di Mint, appena felicemente compiuto un'exit da 190 milioni vendendo Mint ad Intuit. In Italia ci hanno già dato disponibilità una serie di mentor di grandissimo livello e di grandissima qualità. Andrea Lamesa di Airbnb, Andrea Di Danilo di Principio, Daniel Forte, Di Foster, Davide De Gusti di Smiter, Davide D'Adri di Sounderit, Marco Trombetti di Translated, Marco Magno Cavallo ancora di Principio, fondatore di Blocco, Paolo Barberis fondatore di Data e oggi sta facendo un acceleratore a Firenze che si chiama Nana Bianca, Stefano Quintarelli, storico fondatore di Inet, oggi ancora al sole 24 ore in fabbrica 24 e così di seguito. A questi nomi aggiungeremo di volta in volta altri, abbiamo anche Marco Massarotto di Acacure, quindi imprenditori che conoscono il settore del digitale e che aiuteranno gli aspiranti imprenditori a raffinare la propria idea di impresa e a farla diventare una realtà. Infine il terzo aspetto sono gli incentivi. In realtà questo sistema funziona se tutti quanti partecipano attivamente al suo successo. Quindi per premiare il buon funzionamento e la partecipazione proattiva di tutti quanti al sistema è stato creato un pool, è stato creato un fondo che raccoglie una quota pari al 3,5% di ogni startup creata durante il percorso. Perché una delle prove che bisogna fare durante il percorso del Founder Institute è andare dal notaio a costituire una società che dà proprio il senso del fatto che effettivamente bisogna fare il percorso, si vuole fare il percorso imprenditoriale. Oggi si discute molto tra gli aspiranti startup per dei costi del notaio e compagnia bella. Se ci si ferma per un po' di burocrazia probabilmente fare l'imprenditore non è proprio la scelta della propria vita. Quindi nel percorso del Founder Institute è previsto che a un certo punto si vada dal notaio. Se non si va dal notaio non si finisce il percorso. Nel momento in cui si costituisce una società l'imprenditore si impegna a cedere il 3,5% del capitale di questa società a conferirlo a un fondo che è un fondo comune. Questo fondo verrà, nel momento in cui verrà monetizzato, verrà ridistribuito tra tutte le persone che hanno partecipato al Founder Institute. Il 40% verrà dato ai gestori del Founder Institute, il 30% per compresi ovviamente i direttori dei chapter locali. Il 30% verrà dato ai mentors che verranno valutati dai partecipanti e quindi godranno dei benefici dell'equity pool proporzionalmente all'efficacia che hanno dimostrato nel aiutare gli aspiranti imprenditori. Il 30% ritornerà indietro ai graduated, a chi ha terminato con successo il percorso. Quindi anche se la vostra startup non andrà proprio secondo le vostre aspirazioni, a un certo punto potrete comunque beneficiare del fatto che gli altri partecipanti al Founder Institute, le altre persone che hanno partecipato al Founder Institute hanno avuto successo e quindi hanno conferito, condiviso un pezzo di successo con tutte le altre persone del Founder Institute. Sono moltissime le aziende che si sono graduate, che sono nati dal Founder Institute oltre 550 e meno di 3 anni, il 41% ha ricevuto finanziamenti entro 6 mesi dalla Costituzione, solo il 9% è fallita e globalmente sono stati raccolti oltre 30 milioni di dollari, quindi complessivamente le aziende sono state finanziate per oltre 30 milioni di dollari. Il Founder Institute è presente in tutte queste città, chi si gradua poi ha accesso, chi arriva alla fine ha accesso al network dei Founder da un lato e dei Mentor dall'altro. Per quanto riguarda le economics, per quanto riguarda le spese, il costo del Founder Institute c'è una fee di 50 euro per fare il test, il test viene pagato, il Founder Institute paga un ente indipendente per erogare il test, il test è completamente online, costa 50 euro, se il test viene eseguito entro il 19 di agosto è gratuito, quindi è gratis per chi lo fa il prima possibile. Chi viene ammesso, i candidati che vengono ammessi, se vogliono partecipare devono pagare 900 euro, se vi fate un conto rapido sono 900 euro diviso 15 incontri, sono 60 euro ad incontro, quindi meno di una lezione di pianoforte probabilmente o di una pochissima altra cosa. A che cosa servono questi 900 euro? Non retribuiscono né il sottoscritto né altre persone, i 900 euro servono per pagare le spese di trasferta dei mentor, perché non possiamo chiedere ai mentor anche di pagarsi le spese per venire da posti diversi da Roma, quindi alcuni dei mentor sono in Roma, altri mentor sono in giro per l'Italia, gli pagheremo le spese di trasferta, cercheremo di far venire il maggior numero di mentor dall'estero, dall'Inghilterra, soprattutto dall'Inghilterra e da Berlino, oltre a quelli che poi la sede centrale del Fandellistri Tapparo Alto ci manderà dagli Stati Uniti. Quindi i costi per partecipare sono 50 euro, se fate l'iscrizione prima del 19 agosto non pagate 50 euro, 900 euro per partecipare all'intero corso, più il 3,5% del capitale della vostra società, sostanzialmente è l'equivalente di quello che dareste ad un advisor, a un gruppo di advisor, quindi si configura sostanzialmente come una quota che normalmente viene ceduta a degli advisor, più nel momento in cui prendete fondi da un fondo di venture capital 4.500 dollari che vanno a retribuire le spese amministrative del Founder Institute, quindi del gruppo che sta a Palo Alto e che costruisce il progetto, che costruisce il percorso e via di seguito. Quindi il Founder Institute viene retribuito, quindi le spese del Founder Institute vengono retribuite sulla base del vostro successo. Se voi ottenete finanziamenti esterni, allora riconoscete questi 4.500 dollari di tuition al Founder Institute, altrimenti ciccia. Ho finito. Per iscriversi è molto semplice, l'iscrizione avviene all'indirizzo fi.co, è un programma fico, quindi deve avere una url fica, fi.co.join Grazie dell'attenzione e vi aspetto a Founder Institute. Grazie.